Dal sogno alla realtà, entro un anno Bitonto avrà, grazie ad un finanziamento di 200.000 euro dell'ente parco, il suo percorso ciclopedonale nel parco dell'Alta Murgia. Noi stiamo lavorando una mappa da 500 km che rappresenta le ciclovie dei 13 comuni, perché vogliamo coinvolgere tutti i 13 comuni, ma siamo partiti dalla Ruvo Corato-Castro del Monte, la seconda ciclovia che oggi abbiamo annunciato ha un finanziamento certo di 200.000 euro, tempi certi perché è un'opera prevista per l'anno prossimo, è quella che è relativa alla Bitonto-Mariotto. 30 km in monta in baico, addirittura a piedi, attraverso un paesaggio tipicamente urbano, fino ad arrivare a quello rurale, caratterizzato da oliveti e mandorleti, toccando il bosco comunale. Proprio qui il percorso potrebbe diramarsi in ulteriore itineraria, secondo del grado di difficoltà, con indicazioni precisi di tempi di percorrenza, difficoltà e distanze. L'iniziativa è stata presentata dal presidente del parco dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, il quale ha apprezzato il lavoro svolto da Michele Abaticchio per arrivare a questo risultato, e cioè una ciclovia. Ma il parco dell'Alta Murgia pensa anche a Expo 2015. Abbiamo proposto al Ministero che chiedeva ai parchi di organizzare iniziative in contemporanea con Expo 2015, abbiamo proposto il Festival della Ruralità, perché i temi di Expo 2015 sono quelli del Festival della Ruralità. E siccome ci sono finanziamenti ministeriali, abbiamo condiviso con gli altri parchi del sud l'idea di fare un Festival della Ruralità che duri un mese e mezzo e che coinvolga più parchi. Alcuni giorni fa a Castrovillari abbiamo sottoscritto questa lettera di intenti per cui c'è la volontà dei presidenti di procedere. Spero che il progetto vada in porto.